è grazie al giappone che anche quest'anno si è anche a celebrare quella che ormai è una festa annuale a velledri grazie all'esportazione dai giardini giapponesi la camelia ritenuto un fiore particolarmente raffinato è oggi il simbolo di una città ma per iniziare a parlare di festa delle camelie bisogna aspettare gli anni 90 quando grazie a un famoso esperto di botanica residente a velledri questa divenne una festa del popolo oltre a conquistare una notorietà a livello mondiale la nostra associazione gli amici di ratatouille è da ormai sei anni che porta avanti la tradizione ricoprendo un ruolo importante nell'organizzare questo evento quest'anno è stato deciso di ospitare a porta napoletana una mostra fotografica monocromatica in cui però la protagonista vero la camelia si distinguesse a presto Grazie a tutti.